Ciao, sono Fabio Batteri, preparatore atletico professionista e ideatore del sistema d'allenamento Soccer Training Level 1. Voglio farti le mie congratulazioni per due motivi. Il primo è che hai svolto lo stage e questo significa che hai fatto il primo passo verso il tuo miglioramento personale. E fare il primo passo significa agire e l'azione è ciò che contraddistingue i vincenti dai perdenti. Il secondo motivo per cui mi complimento con te è il fatto che durante lo stage hai imparato delle metodologie e dei concetti che ti permetteranno fin da subito di migliorare nel tuo sport e la tua prestazione. La prima cosa che hai imparato è una corretta esecuzione del cambio di direzione, in modo tale da essere più efficace e più veloce e arrivare prima dell'avversario. La seconda cosa che hai imparato è quella di allenare il sistema nervoso centrale per diventare più veloci. Infine hai appreso degli esercizi fondamentali per rendere la tua corsa più fluida e coordinata, in particolare la coordinazione braccia-gambe e la cura degli appoggi dei piedi durante la corsa stessa. Ci sono due cose, due promesse che ti ho fatto prima dello stage. La prima già l'ho mantenuta perché ti avevo promesso che avresti avuto la possibilità di migliorarti. E questa è stata mantenuta per il fatto che hai già svolto lo stage e ti sei impegnato al massimo. La seconda cosa è che ci saremmo incontrati e ti avrei dato i risultati dei test e ti avrei mostrato che cosa devi migliorare sulla base dello stage stesso. Sono qui proprio per questo. Infatti ti allego nella mia email insieme a questo video l'orario del planning in cui possiamo incontrarci e il luogo in cui avverrà l'incontro. Il primo incontro avverrà già da martedì 13 agosto. L'obiettivo di questo incontro sarà dunque quello di mostrarti i risultati dei test, spiegarti che cosa devi migliorare sulla base dei test di quello che ho potuto vedere durante lo stage e quindi quali sono le problematiche che finora ti hanno limitato nella tua prestazione. E infine ti dirò quali sono le strategie per migliorarti. Oltre a questo faremo anche sul posto una veloce valutazione posturale e sulla base del tuo peso e altezza che mi porterai nel prossimo incontro ti calcolerò il tuo BMI che è il Body Max Index e ti dirò se è opportuno o meno andare dalla nutrizionista del nostro staff che gratuitamente ti farà una visita. Quindi ti aspetto la prossima settimana e ci vediamo presto. Ciao!